buongiorno cari amiche partiamo con la nuova stagione dell'autunno inverno 2023 e vi propongo degli outfit per le vostre bimbe e i vostri bimbi neonato quindi dai 0 3 mesi fino ai due anni questo brand spagnolo con tutta questa ciniglia morbidissima vi faccio vedere proprio il suo leggings e anche con la sua la sua maglia messa sopra sempre in ciniglia come vedete poi ci sono anche tutti i completini sia così nell'abito che nel completo due pezzi eccolo qua vedete i due pezzi con queste micro tema di frutta vedete così oppure anche l'abitino altro tema poi che vi propongo sempre in ciniglia è l'abitino così oltre al completino con questo sangallo messo intorno sulla pettina tutto tinto in capo anch'io oggi mi propongo con questa felpa ideale sia nel quotidiano sia anche per un eventuale outfit da futura mamma ok in rosa cipria oppure anche da abbinarci sopra a un eventuale per mettere in un eventuale collo anche la t-shirtina con l'elastichino nei polsini in bianco poi simpatiche sono anche tutte le eventuali copertine per avvolgere i vostri bimbi neonati con questo rosa cipria oppure in questo grigio polveroso che tende un po' anche all'azzurro e vi voglio abbinare anche ci voglio abbinare anche un paio di scarpine partiamo invece con il boy con questo cotone con questo cotone gillo molto morbido che proprio non pizzica è super elasticizzato rigato ok rigato dove insieme a questo mettiamo o guardate anche che bella la scarpina sempre in azzurro che si abbina o il pantaloncino così in burro tutto elastico con l'elastichino anche sul fondo e quindi facciamo un completino di questo tipo oppure anche un vellutino sempre di cotone così morbidissimo è sempre elasticizzati vi andiamo abbinare anche questa maglia di lana ma vi assicuro non pizzica morbidissima che oltre che farvi da golfino vi fa anche adesso attacco stagione come capospalla per uscire con i primi freddi poi un completino proprio nascita quindi nascita è una felpa micro micro pile felpa rovescio e è fatta con la ghettina e l'incrociatino bello anche perché non ha il polsino per cui potete tranquillamente girarlo in questo modo e questo è un bel completino anche per andare all'ospedale uscire dall'ospedale quando appunto lo avete partorito oppure anche come quotidiano per i primi mesi appunto andiamo anche nei primi capospalla sapete il teddy quando lo amiamo quanto lo amiamo e quanto lo amate me lo chiedete sempre quindi questo teddy morbidissimo nel colore cammello da abbinarci sempre con tutti questi completini l'abbiamo nella proposta così del cammello oppure ve lo voglio proporre anche in tartan così che arriva fino alla taglia poi due e quattro anni quest'anno poi molta proposta di tartan dove abbiniamo tranquillamente il pantaloncino in felpa elasticizzato di questo nuovo brand che trattiamo da questa stagione è una new entry italiano ok con i tasconi laterali guardate che belle anche queste pantofoline scarpine fatte vedete così con tipo a modi coniglietto o topolino questo pantaloncino praticissimo con l'elastichino è una ciniglia fatta a effetto velluto ciniglia e oppure questo completino così vedete fatto con la tasca marsupio e il suo e anche il suo completino così con le righe la sua felpina con le righe abbiniamo sempre a questi completini anche delle altre proposte in verde che io amo molto poi questo colore che così lo mescoliamo poi con tutti gli ottani oppure anche col grigio quindi ottani e verde o sempre con il cammello in questo caso poi il cammello potete benissimo alternarlo con questa riga in grigio o viceversa vedete molto carino poi andiamo sempre in questo maglioncino da abbinare a tutti i pantaloncini che abbiamo visto prima in vellutino leggero vedete questo il primo maglioncino un infeltrito ammorbidito quindi che non pizzica e infine con la felpa che ho io nelle taglie piccole che indosso io che mi fa tipo mini abito o maxi felpa con queste ampie maniche con la sua ghettina sempre in cotone gillo morbidissima eccola qua a fine avvolgiamo il vostro bimbo o la vostra bimba con le nostre consuete copertine di caldo cotone o in lana leggera che non pizzica bene vi aspettiamo in negozio con tutte le proposte dei brand dei nostri brand per la collezione invernale e autunnale ciao buona giornata a tutti